Buongiorno ragazzi, oggi ho già fatto un video per la comunità di YouTube ma voglio dedicare questo a voi. Siete fantastici, mi avete dato, ovviamente c'è qualcuno che è un po' più timido come al solito, magari abbiamo creato un pool di persone che però condividono, tanti di noi hanno già sperimentato con il monitoraggio continuo, è un investimento anche economico ma è un investimento che consente di crescere a velocità stratosferica. Grazie, 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 siete fantastici, vi devo tantissimo, siete ormai degli amici. Quando ci parliamo veramente, cioè io o qualcuno di voi mi manifesta gratitudine in tutti i modi, io non so veramente come ripagarvi. Allora abbiamo tirato fuori tutta questa massa di dati che sto condividendo anche con quelli che ovviamente non hanno ancora avuto tempo, poi non hanno, vivono magari in condizioni dove Amazon non arriva, quindi non ti porta. Io, tra parentesi, a Genova ho già provisto l'ordine con uno sconto che ho messo chiaramente il prezzo, perché ho messo addirittura ai miei amici il messaggio, lo sapete, del condiviso da questa persona che ho conosciuto tramite il primo acquisto su eBay, quindi figuriamoci, mi ha proposto uno sconto, perché diciamo su Amazon l'agegino viene proposto sugli 80 euro, noi siamo arrivati parecchio sotto i 50, cioè parecchio, diciamo a quelli valori spedito. Poi io ho l'incombenza di dovervelo, se qualcuno vuol fare l'ordine facciamo lo contrario, ci mancherebbe che non è che abbia tutta questa voglia di anticipare soldi, però tutto trasparente, cioè non ci voglio guadagnare, veramente mi conoscete ormai, dai, spero, ecco spero. Cosa voglio dire? A parte questo discorso qua che è un di più, volevo raccontare, ma tanto siamo in famiglia, siamo tra noi, volevo raccontare proprio a voi il meccanismo, poi magari agli intimissimi andiamo un po' ancora più nel dettaglio, però come arrivare a questo stato di chetosi, ma soprattutto cosa si sente? L'amica Francesca, tanto non dico cognomi, ma penso che non abbia neanche timore a presentarsi fuori, qualche giorno fa, mi sembra due giorni fa, se non sbaglio, ormai il mio cervello va veloce, ma diciamo perdo un po' talvolta la cognizione di cosa è successo quando, perché si sono sviluppati mille pensieri nel giro di tre giorni, e quindi abbiamo concretizzato tantissimo. La sensazione della chetosi, lei mi diceva, diciamo, chiaramente, che la percepisce, la percepisce come una cosa frizzantina a livello dei piedi, a livello... Io, ho detto, non l'ho mai sentita, mi correggo subito. Allora, stamattina, a parte che avevo una glicemia, un picco di glicemia negativo, picco, diciamo, sono rimasto anche per un po' costante, ben al di sotto dei 70, e quindi, diciamo, questo è il risultato dell'alimentazione che ho fatto ieri e nei giorni scorsi. Ripeto, un abbattimento di 12 punti della glicemia media nel giro di tre giorni, cioè con una regolarità che, se guardo il primo tracciato e poi vi racconto due o tre cose personali, fa impressione, fa impressione davvero, ma a livello di chetoni lo percepisci. Io lo percepisco soprattutto in testa, però effettivamente stamattina risveglio sentivo un po' come se avessi carenza di potassio, sapevo di non averlo perché l'ho preso al giorno prima, quindi crema ortartaro, sal inglese per un po' di magnesio che calma, no? Sono quelli che, diciamo, anche da bagno, che tra l'altro costa di meno, quindi essendo ligure sapete come funziona, ce ne tendono un sacco così, perché lo puoi mettere in una vasca da bagno, quindi noi piano, perché sal inglesi, diciamo, di Epstein, sono belli e lassativi, però, diciamo, prendi due piccioni, tre piccioni con una fava perché rilassamento e rilassamento anche intestinale, così va anche un po' meglio di corpo, no? Vabbè, a parte questo, tra parentesi, per inciso, in questa fase qua ipocalorica l'intestino ha cambiato radicalmente il comportamento, quindi, diciamo, tante volte anche il corpo cerca di darci dei segnali quando c'è troppa stipsi che forse devi cambiare qualcosa, che forse devi alternare qualcosa, ma voi stessi mi dite, ma non ci si può allenare tutti i giorni nello stesso modo e nello stesso modo non ci possiamo alimentare tutti i giorni nello stesso modo, va cambiato, un giorno saremmo un po' più su di calorie, come facciamo nel nostro schema fat shifting? Allora, cosa si sente? Si sente effettivamente questa sensazione di tremorio nella muscolatura. Cosa cambia? Cambia, secondo me, un discorso probabilmente anche a livello vasopressorio, e me ne sono accorto perché poi stamattina mi sono alzato carichissimo, come vedete, velocissimo di pensiero, leggermente più impacciato, ma diciamo, però a livello di muscolatura probabilmente leggermente meno reattivi. Mi sono alzato e è come se avessi avvertito un certo tipo di affaticamento che è scomparso dopo tre metri. Qualche, come se avessi qualche piccola fascicolazione, qualche, un avvertimento di questo tipo qua. Forse a livello dei piedi ha ragione Francesca, quindi quel pizzichio, quel formicolio che ti fa capire che testi glicemia, vi ripeto, bassissima, bassissima. Adesso che sono carico, ho preso i miei due caffè, oggi voglio arrivare a saltare proprio anche l'apporto glucidico per vedere cosa cambia e prenderò anche i limoni tutti concentrati nell'OMAD. Voglio arrivare a vedere cosa succede a diversità per vedere come cambia la situazione rispetto a ieri. Ovviamente cambierà perché è cambiata l'alimentazione, e ne cambierà l'apporto proteico, l'apporto calorico, la situazione globale. Quindi bisogna fare sempre tante tante tare, però tanti aggiustamenti li stiamo facendo a 200 all'ora. Non possiamo neanche pretendere di avere un quadro di dati che arrivano da due anni di studio, ok? Però, diciamo, non siamo neanche in 1.500, quindi diciamo la verità, i dati sono quelli. Però è importante cominciare a mettere, a far quadrare due o tre discorsi. Ci ho detto, il risultato è che poco fa aveva una glicemia che comunque si è riattestata tranquillamente sui 79, quindi valori più che accettabili. Magari adesso ce l'ho 81, vai a sapere, no? Adesso poi controlliamo. E questo probabilmente è giustificato anche da una riattivazione del metabolismo, mentre sei ancora praticamente tranquillo, mezzo addormentato, a letto è normale poter avere anche 65, 66, 67, poi diciamo quando ti riattivi. In questa fase di riattivazione, i chettoni vanno molto su, la glicemia rimane bassa, è ovvio che è qualcosa di diverso rispetto anche a quando la glicemia è altissima. Altissima nei nostri range, ecco stavamo parlando di una glicemia magari di 101, rispetto appunto ai 67. Il feeling ce l'hai, io ce l'ho a livello termico. Ho visto che grazie al monitoraggio, ha preso il braccio giusto, grazie al monitoraggio arriviamo alla conclusione, a far quadrare un po' di dati. Picco negativo, io al mattino di solito al picco negativo, a quell'orario lì ho sempre un po' più freddo. Se come al solito sono nudo come un verme e ho l'insulino, è facile che l'insulino lo tiri su, ecco tanto per dire. La sera che si abbassa la glicemia, ho sempre detto la sera, patisco un po' di più, la sera la glicemia, da me ha un fisiologico abbassamento, assinché poi non vada a introdurre quelle due o tre calorie, e allora c'è un fisiologico rialzamento. Ieri il fisiologico rialzamento, poi eventualmente mi mando il grafico, è stato ridicolo. Allora, questo è il sunto. Cosa ho fatto ieri? Perché poi siamo tutti uomini e tanto siamo in famiglia. Ieri ho lavorato come veramente forte. Al mattino, come al solito, nella mia routine ultimamente, tre limoni spremuti appena mi alzo, con una buona dose di acqua a seguire, e ovviamente c'è una limonata, sono tre limoni, poi ci aggiungo dell'acqua, quella è la palissiana, comunque un bel bicchierone, dopodiché ci bevo molto dietro insieme a un abbondante, dico abbondante, poi diciamo un dito, un dito e mezzo nel tumbler, di aceto di miele, così che controlliamo un po' la glicemia dei limoni, se proprio vogliamo. C'è Thomas de Lauber, l'avevo messo, ho fatto un bel video, diciamo un po' come al solito, strumentalizzato, ma non voglio entrare in... tanto lo sapete, fa pubblicità a vari prodotti, eccetera, eccetera. Non è questo il contesto. Noi a questo punto dobbiamo vedere l'alimentazione, a quel punto pochi caffè rispetto al mio standard, perché volevo mantenere anche il livello... c'era già lo stress lavorativo, volevo non pomparmi con la caffeina, posto che ho visto che la mia caffeina, diciamo quando mi prendo il caffè, la glicemia rimane lì, quindi potevo anche... però ho preferito magari andare con un blando tè verde, con la bustina rifatta da Genovese 70 volte, quindi praticamente acqua tiepida, per idrattare, e diciamo che sono andato avanti tranquillissimamente fino a un orario intorno alle 6, eccetera. faceva proprio caldo a ieri, ho lavorato tanto, mi sono mosso anche tanto, anche diciamo proprio dinamicamente, durante le fasi lavorative, quindi camminato proprio attivamente, e ho avvertito un certo senso di spossatezza. la curva glicemica è scesa gradatamente, fino ieri a un certo punto sono arrivato di nuovo verso, diciamo intorno agli 88, ecco perché sono partito leggermente più alto, ho avuto durante il viaggio in moto, sono sceso, mi sembra che avessi 106, adesso dico comunque valore di quel tipo lì, la sera appunto di nuovo, 91, 92, eccetera. Ieri sera prima di mangiare ero sugli 86 addirittura, quindi abbastanza bassa, quindi diciamo vedete l'energia, la termoregolazione, eccetera, eccetera. Adesso poi fa caldissimo, quindi viene anche molto molto più facile rispetto a fare l'inverno, quello l'abbiamo detto, l'avevamo già visto. Poi ieri eravamo fuori, perché sono andato con dei colleghi, dovevo vedere, tanto i miei cari colleghi, bellissima serata, ma al di là di questo, cosa ho detto? Tra l'altro eravamo in due o tre attenti un po' alla dieta, bellissima serata, su una località qua in Liguria, dove veramente anche solo il panorama, devo dire, a volte abbiamo dei posti che sono secondo me molto invidiabili, e siccome siamo nell'ambito del cosiddetto aperitivo, apericena, allora io ho preso una tartara che erano più o meno a occhio, 150 grammi, mi sono fatto portare abbondante olio, l'abbondante olio vuol dire che, diciamo, rimaniamo su un dosaggio a occhio, che poteva essere, diciamo, due cucchiai e mezzo, proprio perché volevo avere proteine e un po' di calorie, per rallentare, quello che sappiamo, l'assorbimento comunque, dei pochi zuccheri, nel senso che poi mi ci hanno messo due fragoline, e ho detto, vabbè, ma perché no, a fine le ho mangiate, e forse c'era qualche, qualche, come si può dire, salsina, diciamo, proprio a sporcare il piatto, che non sapevo bene cosa fosse, ho così, molto, molto timidamente, assaggiato, no, c'era proprio il piatto che era più per styling, era disegnato, e non mi sembrava, era più una cosa di agrodolce, mi ho detto, magari fa bene la fermentazione, magari no, vediamo un po' di, così, con l'olio e tamponare, e due flutte di ottimo franciacorpan, quindi, diciamo, non è che non si possa vivere, vedete come alla fine la convivialità, eccetera, eccetera, ho mantenuto, vedete, le calorie bassissime, e quando sono arrivato a casa, dopo viaggio in moto, la glicemia era comunque sempre bassa, si sarà alzata, diciamo, veramente di un niente, ecco, quindi, diciamo, la curva glicemica, ieri è stata morbida, devo dire che sarà, devo aver toccato, penso, i 101 nel post-prandium, e quindi, poi, sono andato a letto, e ho visto che questa curva glicemica, è scesa, molto, molto graduale, dopo mezzanotte, quindi, diciamo, ieri sono arrivato a casa un po' più tardi, e, ovviamente, diciamo, questa discesa probabilmente è coincisa con il rilassamento, con la fase dell'addormentamento, eccetera, eccetera, e, diciamo, quando ci siamo addormentati, magari, non so, abbiamo una fase più agitata, nell'addormentamento classica, con i movimenti rapidi, eccetera, eccetera, e poi probabilmente c'è questa fase qua, quindi, questo è un po' per dirvi, riassumendo la sensazione, come sono arrivata a questa situazione qua, stamattina mi sono svegliato, boom, la testa andava veloce, mi sono svegliato prima, con meno fatica, eccetera, eccetera, mi sono alzato, ho sentito questa situazione, anche prima di alzarmi, muscolare, che riscriveva l'amica Francesca, ho avvertito questo iniziale imbarazzo della muscolatura, che, ovviamente, si è già risolto, magari, chi fa poi delle, chi richiede al fisico delle performance, potrà vedere delle differenze, secondo me, nell'attività di tutti i giorni, poi ci ritorniamo sopra, ma non te ne accorgi nemmeno, ti accorgi di questo stato mentale, di lucidità, di chiarezza, e ritorniamo al discorso di GKI, il Gluten Chetone Index, no ragazzi, quindi diciamo, quando abbiamo la glicemia alta, probabilmente i chetoni, non riescono ad essere così elevati, non avrebbero senso, arrivano ad essere elevati, quando l'organismo deve fare, perché faccio questo, perché, vabbè, oltre a voler capire, voler testare, però, diciamo, è anche un discorso metabolico, ogni tanto, come ogni tanto lasci riprendere l'organismo dall'allareamento, ogni tanto lo porti al massimo, all'estremo, eccetera, secondo me è il concetto dell'ormesis, ogni tanto lo stress fa bene, magari non troppo, nel senso che fare una cosa così a lungo termine potrebbe essere troppo, anche per la mente, ma anche per il corpo, ma ogni tanto bisogna forzare il corpo a tirare fuori tutte le energie che ha, tutte le risorse che ha, speriamo, in quest'ottica, di agevolare anche i processi di guarigione interna. Con questo, che vi dire, io vi ringrazio, dovrei dedicarvi molto più tempo a voi, ma in realtà siete voi che dedicate più tempo a me, magari anche voi, quei 5 minuti, 10 minuti, però tutti insieme mi date veramente tantissimo, grazie, spero così di meritarvi, di meritarmi il vostro aiuto, la vostra fiducia, e tutte le vostre forme di gratitudine. Grazie, a presto, Doc Andrea Rebiz, e scrivetemi, ciao, e chi inizia col piano, mi raccomando, non dico neanche niente, con questo ci siamo a vedere tutti, alcuni hanno più ansia, alcuni sono più coraggiosi, alcuni esplorano, però, diciamo, io sto parlando a persone competenti, che hanno chiesto al medico, che sono a volte medici stessi, loro stessi, quindi, stiamo parlando a community, che proprio, non sto parlando, diciamo, se no dovrei fare sempre questi disclaimer, attenzione, rivolgetevi al medico, poi, detto tra di noi, perché siamo tra di noi, a volte se ti rivolgi al tuo medico, ne sa, meno, di quello che, diciamo, in termini di cheto, non stiamo, non è che gli do degli innovanti, per carità, però magari in termini di chetogenica, le continuo a leggere delle cose, che mi fanno, veramente, venire la pelle, la pelle, la pelle, non ce la lascia stare, no, ok, adesso, ritorno a lavorare, grazie ancora, buona giornata, ciao, da Campionale Denizio, Grazie.